Sai, sai quale cosa dobbiamo fare, Piero? Certo Ce lo faremo, no, 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 no Ce lo volemo, ce lo volemo! Ce lo volemo, ce lo volemo! Siamo arrivati praticamente a un mini lockdown. Piero ma è lockdown ma solo per le regioni che hanno praticamente stanno malissimo, stanno messe male. Lockdown, lockdown. Poi c'è il lockdown più soft tipo per le regioni arancioni e poi c'è un diciamo rimangono invariate per quelle verdi che sono solo due. Al momento. Le regioni verdi. Basilicata e un'altra. Muglia a Campania dovrebbe essere arancioni. Quanti a Piemonte Rosse. A arrivare nel contrastino. ScENTE Ascolti le Molotov! On me tire dessus! L'ennemi atterri dans la zone. Surveillez le ciel. Attention où tu tires! Balance une granade paralysale! Tout le monde est prêt. Warzone nous attend. Molotov lancé! Mais... Piero, aujourd'hui... Forza Juve! Sempre! C'è, si va bene, nel senso che... Comunque... No, Maisia non vince aujourd'hui, Mattia, veramente. Oggi, minimo, minimo, redivide alle 5 gol. Esattamente. Aspetta, CR sempre gioco. Piero, sai quando ho capito che oggi vincerete? Piero annuncia, Dybala riposa. Ahahahahahahahahahahahah! Menchia, sta giocando male. Ma mi sta rovinando, mo. Eh, vabbè, comunque non giocava da un po', dai dai. Eh, no, lo so, ma... Comunque, sei con un uomo in meno. Qui... Ma ora sera fermo. Lui è fermo. Cazzo, culo, c'è schiappa. Mi ha fatto una bella partita con Sampdorio, la seconda punta. Qui non ha giocato più, la seconda punta. Che cazzo! Eh, ma si, vedremo. Mo ho visto che vuole mettere praticamente... Ronaldo punta. Ma perché... Perché... Secondo me... Comunque... Non che è diventato scherzo, Ronaldo. Però, maledio, ma... Non può più correre come è prima. Non può fare il lavoro di fascia. Poi... Arriva stanco sotto porta, capito? Esatto. Lo tieni là avanti, tanto lo sai che se li butti palla... Novanta per cento delle volte, se non... Novanta a cinque è due. Lui di Kaku, se non capisco dove metterà Morata. Eh... Morata, la fine... Morata sta giocando bene, eh? Sì, ma Morata, secondo me, farà... La sesta fine di Benzema con Cristiano Ronaldo al Real. Che deve giocare la seconda punta. Anche se è una punta, deve giocare la seconda punta. Può essere. Si deve giocare il sacrificio. Vabbè, Piero, tu il sacrificio a chi lo puoi fare? A Morata o a Cristiano Ronaldo? Oh, vabbè. Sì. Eppure tu... Pure tu Morata, stai zitto e lo fai, cioè. Certo. Sì, devi stare zitto e lo devi fare. Sì. 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 Io non ho iniziato bene. Mi sto fermando. Eh, comunque ci siamo fatti due hangar. Ci siamo fatti tutti gli aerei. Tutte e due le case ti sei fatto P Ciao quella di destra no Grazie Si è durata a festa a taglio Le notte altre sono P dove trovo a comprare il lancio? Guarda qua io sono praticamente Io non ho visto gente quindi per me Penso che ci avrebbero già sparato Sì Matti arrivi a 4000 prenditi il coso C'è l'argento qui C'è l'argento qui C'è l'argento qui Voglio combattere un po' perché muoio subito Il kit l'ho trovato Cosa cazzo sta lasciando la cara? Cosa cazzo Cosa cazzo Cosa cazzo Cosa cazzo Mi sarà Prima di Voi Gravi a jour, nuovi obiettivi identifiché. I obiettivi principali attenti, le pièces di ravitaillement sono stati trovati. E' buon che serviva come il pane il carrello qua, non c'è. Io c'ho una cassa di piastre, lo so che tu c'hai il sac che sei pieno, però... Io la farò a risarla. Ok. Dove si va? Dove si va? Siamo pure al centro. Vieni verso le vele ma a te. Sì, sì. Non è possibile che... Nessuno è sceso. Ma stanno ancora sull'aereo le persone? Sì, c'ho trovato per una cassa di munizioni, la vieni a prendere. Ce l'ho già la cassa. E come facciamo? La prendi, la butta laggiù e basta. Io la sto pieno. Sì, c'ho pieno. Sì, c'ho pieno. Sì, c'ho pieno. Sì, c'ho pieno. Metto 2.000 quasi a cappocchia. Non so! Non so neanche come fregarli i colpi. Ho tutto. Tutto, tutto pieno. Manca soltanto i colpi del lanciatore. E' il fantasma. Che ora ce ne va a prendere? Quando hai chiamato il lancio, eh? Dove? Un bombardamento. Una maschera. Ho chiamato un uomo. Giusto a vedere... Tu pensa che le vele sono non ult? E' incredibile. Si sono chiamati per un lancio. Un bombardamento. Un bombardamento. Un bombardamento. Che è successo? Oh! Sali sulla vela! Sali sulla vela! No! E' qua si vengono della ferrovia! Oh, che aspetta. Dici che sono la ferrovia? Eh sì, è normale. Siamo sui monoteri daoteci. Sto a fare qui. Sto a partire una vola. Allora, saliranno qua. Oppure era quella macchina, qui è. Non abbiamo visto arrivare la macchina. Non è possibile. Non è possibile. Però, Pia, a me ora non impica nessuno ora. Ho paura che nessuno è riandato. No, guarda. Ah se, che ho trovato un nuovo, Pia. Sì, pensare non è riandato con l'altro. Si sono attiva, avranno ripreso la macchina. Il lancio è il nostro e un altro. Vai, proviamoci dai. Dobbiamo salire di nuovo verso gli hangar. Certo. Bene, adesso riaffarsi i due vicino. E qua non stiamo male finito. Vuoi rimanere qua? No. Vedendo la mappa non stiamo male. Eh, dipende da dove si chiude questo cielo. Non c'è neanche una bandiera da fare. Non c'è neanche una bandiera da fare. Non c'è neanche una bandiera da fare. Ti hanno busato un colpo! Questa è un UAB! Prendi a sparo! Pfff! Pure io ho delle munizioni, solo... Oh, stanno le vele! È rispetto a quella che si ha preso il lancio! Un addosso ci arriva! Cioè, Piero, siamo a quasi terza save! Abbiamo zero uccisioni, zero di danno! Ma non è che abbiamo camperato, eh? Cioè... No! Ci sono fatti... Boh! Però spari medio vicini li sento! Per risparre sto cecchino! Sì, perché non ce la fa... Lo vedi? Sì! Penso che con un HDR sarebbe arrivato! Non lo vedo! Pure! È la madonna! Sto sperando che qualcuno scenda qua, guarda! Per culo quello con... L'avevi cercato, eh? Eh, vabbè! Sì! Sì! Alleluia! Da 67 a 84! È la madonna! È la madonna! Oh la madonna! 17 persone! È già 81! È già 81! È la madonna! Qua è spawnato uno! 80! È andato uno! È morta l'ha ricercato! No! Ce l'abbiamo ancora! Come ce l'abbiamo? Sì! La corona! Ah sì! Vabbè è morta da finito il tempo! Ma te la stava facendo un... Un... Non so! Pi... Guarda! Hai visto dov'è? Non so! Non al centro per piacere! Casa all'approche! Nouvelle zone di sicurità identifiée! Le vele! Le vele! Non so che dici ma stiamo a fare! Che vuoi fare? Ci rispostiamo qua? Sì! Sì! Non male! Tu vedrai che si chiude qua! No! Mai sì, io dico! Tu vedrai! 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 Vedrai il mio tempo! Per andare lontano! Amato me abbastanza! Cazzo di alberi! Oh! Motore! Piero! Ma non ci credo! Due sono a piedi! Quanto? Ah! Fa pure la minaccia che! Scaccato! La terra! Puccia! Non ci credo Piero, non ci credo Non ci credo, non ci credo Non ci credo, non ci credo Non ci credo, non ci credo 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 No Non ci credo 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 A5 Non ci credo 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 Cambio Non ci credo 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 Vai qua Non ci credo 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 Davide Non ci credo Davide Non ci credo Non ci credo David Piero E' Non ci credo Allora E' 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 Non ci credo Io E' E' In un posto E' E' No, no E' 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 buono E' buono Io E' E' Io E' 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 E'